Pronto? Vorrei parlare col Comendatore. Glielo chiamo subito, attenda un attimo. Grazie, siamo fortunati c'è. Sì, pronto? Dica pure, sono qui. Comendatore, sono l'Avvocato Rossi, l'assistente di Marcello Poletti, ne avrà sentito parlare. Ah, la caccia. Sì, ecco appunto, la grande caccia. Comendatore, io vorrei proporle un grosso colpo pubblicitario per il suo prodotto. Imperniato sulla sua piscina, su un coccodrillo e sull'uccisione di una ragazza americana. A me l'idea che si ammazzi qualche d'uno, per pubblicità, mi ha sempre divertito molto. Sa cosa mi preoccupa? Il fatto che sia uccisa una donna. E perché? In Italia potrebbe essere il conto producente. Assisti. E se uccidessimo qualche d'un altro? Questa no, è impossibile. Comunque le dirò che quest'anno è di moda sacrificare le donne. Non è importante chi muore, ma come muore. Digli che la gente oggi vuole lo spettacolo. Come lei sa, oggi la gente guarda solo allo spettacolo. Sì, sì, ha ragione, ma vorrei pensarci. C'è un mentatore, noi le diamo la preferenza, ma non possiamo perdere tempo. O sì o no. E va bene allora, venite subito qui da me. Benissimo. Sì, ma subito però. D'accordo.